Quindi, oggi andremo a fare un ripasso sui database, andremo a vedere com'è che si fa l'integrazione tra il database e Flask, perché finora non l'abbiamo fatto, no? Finora siamo qui, nel senso che abbiamo fatto quell'applicazione Python piccolissima che riesce a prendersi qualcosa dal database, ma basta, ok? Ok, finora non ce l'abbiamo fatta ancora, non abbiamo ancora sviluppato un'applicazione Python che riesca a collegarsi al database, quindi lo faremo oggi e ovviamente vedremo come si fa con il mangiato, con l'esercizio che avete fatto finora, ok? Niente, prima di iniziare ci sono domande sul database, di quello che abbiamo visto l'altra volta, vi ricordate più o meno come era? Quindi niente domande? Ottimo E poi, per oggi, potete scaricare dal sito l'esercizio che faremo qui, in modo di farlo tutto insieme, ok? E la smettete un po' lì E quindi niente, vediamo Allora, se scaricate quello che c'era sul sito, avrete Ho aggiunto questa cartela Esercizio Che è questa cartela esercizio Anzi, prima di vedere questo, ricordiamoci un po' di quello che avevamo fatto la scorsa volta Quindi c'è un file Python Guardate che questo è Python E nient'altro, qua non c'è Flask Non ci sono le root Non ci sono gli endpoints Non c'è niente di Flask Questo è un file Python Che ha un'unica funzione Che è la funzione main Cioè, la funzione principale In cui, cosa faceva? Preparava una query Si collegava al database SQLite Faceva la query Ci prendeva i risultati E poi li stampavamo qui, ok? Dopodiché facevamo un'altra query Con un altro cursore Ci prendevamo i risultati E li stampavamo lì, ok? A cosa ci serviva questo piccolo programmino di Python? Ci serviva a capire com'è che si faceva l'integrazione Da Python al database Cosa ci manca adesso? Aggiungere Flask sopra Python, no? Lo sappiamo che è questa l'architettura, no? C'è Flask che gira su Python Che è un modulo di Python E poi sotto c'è il database Qual è il database in questo caso? In questo esercizio? Dov'è il database? E all'interno di questo file Task.database Meglio, è rappresentato da questo file Task.database Perché funziona così? Perché è un database di tipo SQLite Che l'abbiamo scelto apposta In questo modo Per non dover andare a seguire Il database da un'altra parte E basta Aggiungere Il database da un'altra parte E niente, adesso ho fatto girare questo esercizio, ho seguito questo esercizio, vediamo cosa c'è. Quindi c'è il nostro mangiato come ce l'ha rimasto dall'ultima volta, ve lo ricordate che l'ultima volta, diciamo l'ultima modifica che abbiamo fatto su questo sito era quella di poter aggiungere un commento, ve lo ricordate? Un commento molto semplice che era tra l'altro un testo e un'immagine opzionale. Quindi voi conoscete bene questa applicazione, no? Sappiamo come è stato fatto, mangiato e come è strutturata. Secondo voi l'integrazione col database, dov'è che dobbiamo farla o da dove partiamo per fare l'integrazione col database, da quello che sappiamo finora? Certo, quindi la prima cosa, anzitutto, andare a creare il file, andare a creare il database, che in questo caso, dato che usiamo SQLite, è un file. E com'è che si faceva creare il database? C'era questo programma, no? Che ci aiutava ad andare a creare il database, a creare le tabelle all'interno del database e poi ad aggiungere dei dati all'interno delle tabelle. Bene, ok? Bene. Quindi sì, infatti, la prima cosa, appunto, è andare a creare il database. Non è banale, però, la creazione del database, no? Perché dobbiamo ragionare su come andare a strutturare il database, su quali tabelle ci servono all'interno del database, su quali campi, su quale colonne, andiamo a creare all'interno del database. Quindi finora, i dati che vengono salvati, i dati che persistono all'interno della nostra applicazione sono questi, no? Il menu. Cos'è il menu? Il menu è una lista con dei dizionari. Ognuno di questi dizionari ha due campi, ok? Il primo campo sarebbe questo type, che ci serve a rappresentare il fatto che sia il primo, il secondo, il contorno. E poi c'è questo elenco qua, che si chiama plates, che sono i piatti e che a sua volta è una lista di dizionari ognuno, di cui ognuno rappresenta un piatto, ok? Quindi il primo compito sarebbe capire come possiamo rappresentare questo all'interno di un database. Magari c'è qualcuno che non ha mai usato dei database, quindi per chiarezza vi suggerisco di farlo... Come si chiama? Ok, quindi... Facciamo un database, assomiglia a una tabella Excel, nel senso che ha delle colonne e poi ha dei dati, delle righe e dei dati che si inseriscono all'interno di ogni riga. In questo caso per sostituire questo menu con una tabella all'interno, con una o con più tabelle all'interno del database, cosa possiamo fare, cosa vi viene in mente? Come si può chiamare la nostra tabella? Perché a noi ci interessa poi togliere questo... togliere questa lista qua, no? Perché poi non ci prenderemo i dati da qui, ma ci prenderemo i dati dal database. Quindi il nostro compito sarebbe quello di rimpiazzare questo menu con un qualcosa che andremo a rappresentare nel database. Nel database dobbiamo ragionare sempre come tabelle e come le colonne all'interno delle tabelle per rappresentare questa informazione qua. Dunque, cosa vi viene in mente? Come tabella? Tre tabelle? Che sarebbero? Ok, quindi il tuo suggerimento sarebbe avere... Ok, una tabella primi. E cosa avrebbe questa come campi? Tipo nome, promotion, pasta. Ok, qui... Boh, vediamo. E c'è sempre l'ID, no? Quindi, ok, qua potrebbe esserci tipo un ID. Qua ci sarebbe name e poi sconto. E poi cosa sarebbe... Quindi tu proponi di avere una seconda tabella che sarebbe qua, secondi, giusto? Sempre con gli stessi campi. Ok, ovviamente una poi. Così, no? Ok, questa sarebbe un'alternativa. Vi viene in mente qualche altra alternativa? Potrebbe essere una sola, che si chiama? Pia? Pia T. Sì, ricordatevi sempre di questa cosa, perché vi aiuta a capire sempre meglio, no? Sempre il nome delle tabelle deve essere messo in plurale, perché appunto ha delle righe che rappresentano degli oggetti e quindi è plurale, contiene tanti elementi di quel tipo. Quindi questo sarebbe Pia T. E cosa avrebbe? ID, nome e sconto. Poi come facciamo a capire se primo o secondo è? Quindi possiamo aggiungere un altro campo che sarebbe sì, tipo. Ok? Quindi quest'altra sarebbe una seconda alternativa. Ci manca qua qualcosa? Ok. Tra queste due alternative quale ci può andare meglio? Forse la seconda, no? Nel senso che nella prima ci sono tre tabelle, ma sempre con gli stessi campi, e quindi al posto di avere tutto. Quindi non c'è un motivo per avere l'informazione in tre tabelle diverse, se comunque condividono gli stessi campi, no? Ha senso avere un'altra tabella quando magari, boh, rappresenta cose diverse, e quando concettualmente rappresenta qualcosa diverso. Quando qua noi parliamo di contorni, di secondi e di primi, comunque di cosa stiamo parlando? Di piatti, no? Quindi al posto di averli lì separati dappertutto, magari ci conviene di più avere una singola tabella, piatti, e raggruppare tutto lì. Che tanto hanno le stesse caratteristiche, le stesse proprietà, quindi ci va bene questo. Quindi prendiamo questa. Bene, l'id sarebbe una cosa di che tipo? Come data type cosa sarebbe? 0, sì, perché è sempre un numero, no? 0, 1, 2, 3. E il name? Text, lo sconto, un number, e poi cosa facciamo con il tipo? Quindi una scelta potrebbe essere quella, no? Dire che questo qua è un int. e poi siamo noi che dal front-end sappiamo cosa fare con gli int, no? Quindi il primo sarà il primo, il secondo, e uno sarà il primo, due sarà il secondo, e tre sarà il contorno. Una scelta potrebbe essere quella, un'altra scelta potrebbe essere far diventare questo un text, nel cui caso, in questa tabella, verrebbe salvato un qualcosa di tipo primo. Ok? Anche questa è una scelta. E poi c'è un'ultima scelta che magari non ci conviene, ma ve la dico perché sì, perché nell'AVE sicuramente all'esame ci sarà più di una tabella, no? Quindi facciamo finta che noi qua abbiamo i piatti e qua possiamo fare una seconda tabella che sia per le categorie, no? E qua la categoria cosa ci rappresenta? Primo, secondo. Quindi qua ci sarà un ID e qua ci sarà un nome, no? Essendo nome, appunto, primo. e com'è che funziona una foreign key? O com'è che facciamo a relazionare queste due tabelle? sì, il valore che viene inserito in questa colonna tipo a cosa corrisponde? All'ID della categoria, no? quindi se per dire qua stiamo per raggiungere il primo piatto questo qua facciamo che non ha lo sconto io voglio dire che questo qua che è la pasta che nella mia tabella piatti all'ID all'ID 0 si chiama pasta e non ha sconto e un primo piatto com'è che faccio a fare questo collegamento? Allora all'ultimo campo viene inserito 0 no? e questa diciamo questo meccanismo questo modo di attaccare o di fare una relazione tra i due database si chiama foreign key ok? quindi ogni tabella ha un primary key che sarebbe questo campo qua che serve a distinguere ogni ogni riga ogni ogni registro e poi ha una foreign key non deve sempre esserci ma in questo caso c'è una foreign key che è un qualcosa che ci relaziona un campo della nostra tabella con il primary key di un'altra tabella ok? e questo lo spiego così piano piano perché magari c'è qualcuno che non ha mai fatto niente con con MySQL quindi è questo il ragionamento è così come funziona MySQL è così come funzionano i database poi la domanda ho spiegato questo ma la domanda sarebbe vi piace avere questo con un'altra tabella? ci aiuta a fare qualcosa? ci aggiunge qualcosa? forse no perché in realtà boh oltre l'id che è un qualcosa obbligatorio e che non aggiunge niente c'è soltanto questa questa proprietà questa colonna che sarebbe il nome e comunque questa informazione che abbiamo inserito qua questi dati che abbiamo inserito qua avremmo potuto inserirli qua no? e farebbe lo stesso avremmo potuto inserirle così come testo o avremmo potuto inserirli come avevamo detto prima tipo uno due e tre per capire primo secondo contorno quindi in realtà diciamo aggiungere questa tabella non è che sia molto utile o che risolva qualche bisogno quando avrebbe senso avere per dire un'altra tabella? per dire con i commenti no? perché quando abbiamo i commenti anzi facciamo quello quando c'è il commento cosa c'era qui? c'era l'ID c'era il testo testo c'era sì c'era la foto ah poi immaginiamo che c'è un una valutazione numerica no? c'era sì appunto l'utente che anche questo ci aggiunge un'ulteriore complessità no? perché se io faccio qua utente sicuramente questo cosa vuol dire? che c'è un'altra tabella che si chiama utente e che questo sarà un foreign key al primary key di quella tabella no? quindi non andremo a inserire qua il nome dell'utente ma andremo a creare un'altra tabella con il dat dell'utente e verrà linkata a questo campo qui e qua questo campo foto secondo voi come si gestisce? come si cosa viene messo all'interno di questo campo foto? il file? il file name eh sì quindi qua non è che viene caricato proprio il file la foto ma viene messo la la url in cui è stata salvata questa foto qui no? quindi sarà sicuramente un qualcosa di tipo static no? e poi cosa facciamo noi con questa con questo pezzo di testo? niente siamo in grado di prendere quello che c'è lì e farlo vedere all'utente intendo noi come sviluppatori del frontend e ok punti sarà sicuramente un int e poi utente sarà sicuramente un int chiaro fin qua? per ora lasciamo stare quest'utente perché settimana prossima andremo a vedere la l'autenticazione cioè ogni utente ha un username e una password e fa l'autenticazione quindi andremo a vedere quella tabella lì e vediamo come si possono gestire gli utenti lì quindi finora facciamo che è solo così e ah ok e quindi avevo messo questa tabella giusto per spiegare o per far vedere un caso in cui ah no no anzi cosa ci manca in questa tabella qui a chi si dobbiamo cercare un meccanismo per dire questo commento a chi appartiene no? questo commento per collegare questo commento a un piatto e allora come si fa? piatto questo qua cos'è un for in key che punta al primary key di questa tabella piatti no? quindi se questo commento è stato fatto per la pasta allora che valore verrebbe messo qui? 0 no? se invece questo commento appartenesse boh che ne so a un altro piatto che ha l'id 3 quindi qua la for in key che è quello che ci permette di collegare il commento al piatto non avrebbe più 0 ma avrebbe 3 ok? tutto chiaro? ottimo bene quindi noi ah ok e poi sia per il lab ma soprattutto per l'esame quello che vi ho detto l'altra volta no? secondo me conviene iniziare a ragionare con un approccio bottom up cioè partire dal database non dal database prima dal testo ovviamente dal testo che vi verrà dato per l'esame quindi prendere il testo e andare a analizzare tutte le funzionalità che vi verranno chieste e poi su quelle funzionalità che avete rilevato dal testo cercare di capire quali sono i dati che vi servono a soddisfare quelle funzionalità lì no? quindi non esiste ancora il tema dell'esame ma mettiamo sia cos'è che abbiamo fatto l'anno scorso? boh a me lo ricordo mettiamo sia boh fare il portale della didattica no? che lo conosciamo tutti e sappiamo più o meno il sistema per prenotare i corsi per dire per prendere un caso specifico quindi cos'è che dovete andare a fare? rileggere bene il testo e individuare tutti i servizi tutti i requisiti che vi verranno proposti e identificare quali sono i dati che servono a soddisfare tutti quei requisiti e com'è che potete strutturare tutta quella informazione e tutti quei dati all'interno di un database quindi in sostanza vi consiglio di fare qualcosa come quello che stiamo facendo adesso ok e poi solitamente non è che al primo colpo avrete progettato il database giustissimo la miglior versione del database quindi fate così e rileggete il testo ed ogni volta che rileggete fate il confronto e cercate di controllare se quello che vi è stato richiesto può essere soddisfatto dal database come lo avete progettato fino a quel momento o se dovete fare qualche modifica per dire in questo questo è un esempio troppo semplice no? ma vi può capitare di aver creato un'altra tabela che magari non serve o di pensare di riuscire a fare tutto nella stessa tabela e poi ve ne accorgerete che ne avete bisogno di un'altra quindi è più o meno questo il processo di progettazione che vi consiglio di di seguire per per l'esame ok? quindi andiamo a creare questa prima tabella sul database ok allora qua siamo all'interno di database browser for sqlite che l'avevamo già visto la scorsa volta sapete dove scaricarlo e cos'è che si faceva prima? si faceva no database e lui qua ci chiede il nome che in questo caso potrebbe essere mangiato ok ok e vi ricordate che anche l'altra volta vi avevo suggerito di creare una cartella vb per mettere lì il database così come abbiamo una cartella per le foto per static per templates niente vi suggerisco di aggiungere anche io una cartella per creare niente per creare il file e lui default andrà a creare questo file con questa estensione no? quindi voi lo sapete che se è un file .db allora è il file sqlite con la con il database ok e qua siamo siamo nel menu per creare la la tabella che abbiamo detto che si chiama piatti e per cui abbiamo già identificato i campi il primo campo che sarà sempre lo stesso per tutte le tabelle che andrete a creare d'ora in poi è sempre l'id abbiamo detto che è un integer abbiamo detto che è una chiave primaria è la primary key perché è quello che identifica quella riga quel registro lì ve lo ricordate questo auto increment cosa vuol dire l'auto increment che sarà il database che si occupa di incrementare di incrementare l'id di gestire quell'id poi c'è questo univoco che vuol dire che è un'ic che quell'id non può due righe non possono avere lo stesso id che ovviamente nel nostro caso deve essere così e poi questo è un node null che vuol dire che quel campo deve per forza avere un valore al suo interno dato che noi abbiamo già indicato che questa è una chiave primaria e che che è una chiave primaria è sottointeso il node null e l'univoco ok possiamo comunque aggiungerlo ma diciamo nella pratica fa lo stesso se ci fossero questi due o no dato che è già una chiave primaria ok poi cosa c'era c'era il niente quindi questo direi che sarà anche non null è unique questo qua il nome del piatto sì potrebbe essere unique sì sì perché non avrebbe senso che ci fossero due piatti che si chiamano esattamente uguali no magari c'è uno che si chiama pasta e poi un altro pasta pasta x e pasta y quindi ha senso che sia unique qual'era l'altro campo sconto che è questo numeric questo cosa cosa facciamo diciamo not null o lasciamo come opzionale questo campo qua un'alternativa sarebbe quella farlo non null e se non c'è lo sconto allora siamo sempre obbligati a mettere almeno zero l'altra alternativa sarebbe dire è opzionale se non c'è un valore lì allora vuol dire che non ha lo sconto questo da cosa dipende da ognuno come andrà a gestire questi dati e poi da come verrà sviluppato il front end sempre sotto questo ragionamento qui quindi per dire ok facciamo not null no facciamo così e poi categoria no e questa categoria not null o la lasciamo opzionale not null verrà sì perché ci interessa sì ci conviene non ci conviene ma ha più senso che ogni piatto appartenga è una categoria che tutti i piatti si possano raggruppare come primo secondo contorno o dolce al massimo ok e questa categoria cosa cosa ne dite viene viene rappresentata come integer o come text bene facciamo come integer e poi dobbiamo ricordarci dalla parte front end di gestire quel valore lì in modo di quello che abbiamo detto prima no se uno allora sarà primo il due vuol dire secondo il tre vuol dire contorno ok e guardate che SQLite browser qua ci crea in automatico il query con cui verrà creata quella tabella lì non dobbiamo farlo manualmente ma lui lo fa per noi e qui facciamo ok cos'è che ho fatto e quindi guardate che qua ce l'aviamo i nostri piatti i nostri piatti no la nostra tabella piatti e qua c'è un'altra che viene creata di default che la crea lui e che noi non dobbiamo toccarla perché altrimenti non funziona più il database c'è la primary key il nome piatto sconto categoria quindi siamo a posto con il nostro database c'è un'altra c'è un'altra Noi volessimo aggiungere qualcosa su quel database, abbiamo due alternative, una sarà quella di cliccare qui, clic destro e poi navigata a tabella e andare a inserire qua manualmente i valori. Quindi guardate, qua vi faccio vedere solo questo, guardate che quando ho cliccato su questo bottone qui, non è molto intuitivo questa interfaccia grafica, per questo che vi faccio vedere, no? Quindi quando ho cliccato su questo qua, che avrebbe quel bottone verde qui col più, lui cosa fa in automatico? Crea un ID, ok? E lo crea, no, crea l'ID con un valore che sarebbe 1. Secondo voi se io vado a creare un'altra cosa farà? Crea la riga con l'ID 2, che vuol dire che lui gestisce questo aspetto auto-increment. E siamo noi che dobbiamo aggiungere qua i valori, quindi facciamo pasta. Qua cosa c'era? Sconto che lui di default, dato che alla fine l'abbiamo lasciato come opzionale, lui di default lascia questo come null. E come categoria ha messo 0. Noi questo possiamo metterlo come 1, ok? E con questo lo salviamo. Salva le modifiche. Non dimenticarvi di fare sempre salva le modifiche, perché altrimenti fate i cambiamenti tutti qua, ma poi non le salva sul file, ok? Salva le modifiche. Quello lì è un modo per modificare il database, l'altro sarebbe, che ve l'ho anche detto l'altra volta, che c'è un'estensione per Visual Studio, no? Quindi potete venire qua, guardate che qua c'è la nostra cartella che abbiamo appena creato, database. Cliccate qui e fate Open Database, ok? Se non vi compare questo Open Database è perché non avete ancora l'estensione. Che vi ripeto, l'avevamo scaricata da qui. E si chiama SQLite qualcosa. SQLite. Questo qui, ok? Quindi se scaricate questa estensione e la aggiungete a Visual Studio Code, qua, quando cliccate e fate clic destro sul file, avrete questa opzione qui di Open Database. Neanche questo è molto intuitivo, quindi solitamente si apre, ma si apre qua sotto, nascosto. Vedete lì che c'è SQLite Explorer. Quindi, niente, se non succede niente o se quando fate Open Database non cambia niente da questa parte, ricordatevi che c'è qua sotto. Qui cosa vi compare per prima è il database e poi vi compaiono le tabelle. In questo caso ne abbiamo solo una e vi fa vedere i campi. Come facciamo ad aggiungere i dati a quella tabella? Ah, ok. Avete visto? Ho cliccato su questo qui, su Show Table. E su Show Table. Vi fa vedere la tabella. Avete scoperto come si aggiunge qualcosa da qui? No, neanche questa interfaccia è molto intuitiva, serve più che altro a visualizzare quello che c'è. In qualche modo ci sarà per fare le modifiche. Finora quello che vedo io sarebbe quello di farlo manualmente. Manualmente vuol dire eseguire una query SQL per aggiungere i valori. Ma diciamo tra questa alternativa e l'altra, preferirei di usare l'altra, no? Per aggiungere le cose. Comunque se volete visualizzare le cose all'interno del database, allora potete usare SQLite Explorer. Questo qua cosa fa? New query. Refresh database. Show Table appunto. Qualcuno è riuscito a farla da qui? A aggiungere un... No? Ok. Niente. Ottimo. Fin qua? Tutto chiaro? Tutto bene? Bene. Domande? Tutto chiaro? Niente chiaro? Ci siamo? Ok. Ottimo. Bene, quindi il primo passo l'abbiamo fatto, no? Ce l'abbiamo già un database. Abbiamo progettato il database, abbiamo progettato il database, che non è banale come vi dicevo prima. Con le colonne sappiamo già quali sono i dati che andremo a gestire. Qual è il secondo passo? Fare la connessione tra Python e Flask. Diciamo prima tra Python e il database, ok? Dove facciamo questo collegamento, questa integrazione? Ovviamente all'interno dell'unico file Python che abbiamo nella nostra applicazione, no? E quello principale, quello più importante, che sarà appunto Py. E vi ricordate come abbiamo fatto la scorsa volta con il file Python? Facciamo così. Teniamo qua aperto questo. mettiamo i due file, uno. No, si capisce che di là c'è un file e di qua c'è un altro. Quindi per vedere tutti e due in simultanea, vedere cosa possiamo spostare da uno verso l'altro. Quindi guardate che qua la prima cosa è importare SQLite, va importare questo modulo per SQLite. Qual è l'operazione, diciamo, più, non dico più semplice, ma più importante o quella fondamentale che dobbiamo per forza implementare sul database? O la prima cosa che andremo a fare sul database dalla nostra applicazione sarà? Andare a prendere tutti i piatti, no? Perché guardate che nel nostro home del nostro sito, nel home del nostro sito cos'è che fa per prima? Fa vedere tutti i piatti, no? Adesso li prende da quell'array che abbiamo definito all'interno del Python, ma poi dovrà prenderli dal database. Quindi per forza la prima cosa che dovrà fare nella nostra applicazione sarà andare a prendersi tutti i piatti dal database in modo di poter mostrarli qua nella home, perché guardate che qua siamo proprio sul home del nostro sito. Questo cosa vuol dire? Che all'interno di questo root qua è della nostra funzione index, che è quella che viene invocata quando siamo al root del nostro sito. Cosa dobbiamo andare a fare? Andare a chiedere tutti i piatti che sono all'interno della tabella piatti, ok? È quello che ci stiamo proponendo di fare con questa modifica che stiamo a fare. E quindi per farlo sappiamo già che ci sono anche dei passi a seguire, no? Qual è il primo passo? Fare, scrivere la, scrivere la Quidi SQL, no? Che sarà uguale a questa. Select tutto. Questo tutto cosa vuol dire? Tutte le colonne, no? Tutti i campi per ogni piatto. From, in questo caso cosa mettiamo qui? Piatti, no? Allora, vai e prenditi tutti i dati che ci siano di tutti i registri o di tutti i piatti che ci siano all'interno della tabella piatti, ok? Poi cosa facciamo dopo? Andiamo a creare la connessione. Che in questo caso non è più con tasks.db, ma con, ve lo ricordate come si chiama il nostro database? Mangiato. E dov'è che abbiamo salvato mangiato? Ve lo ricordate che abbiamo creato una cartella db a posto per salvare il database? Quindi, guardatelo, è qui, db, mangiato. Quindi per puntare correttamente sul file dobbiamo aggiungere proprio l'url, la cartella dove abbiamo salvato quel file. Poi cosa facciamo? Andiamo a creare questo cursor. Cos'è il cursor? Vi ricordate dall'altra volta cosa sarebbe il cursor? Sarebbe tipo un puntatore a cui vengono assegnati o che punta sui risultati che si prende dal database. Quindi è un qualcosa che punta ai risultati che siamo riusciti a prendere dal database, ok? Ricordatevi che per ogni query che io voglio fare verso il database, devo creare un cursor diverso. Perché si crea uno diverso? Perché ogni cursor punta ai risultati diversi, no? Quindi questo qua che stiamo per creare, cosa avrà, quali sono i risultati a cui è legato questo cursor? Tutti i piatti. Se poi noi facessimo una seconda query, per prendere, che ne so, tipo il piatto che si chiama pasta, e andiamo anche lì a creare un altro cursor, quello lì cosa sarà? Sarà un puntatore ai risultati di quella seconda query, no? Quindi non dimenticare mai che c'è una singola connessione, ma per ogni query che si fa all'interno di quella connessione lì, deve essere ad ogni query un cursor, ok? Non si possono riusare i cursor, perché ogni cursor è associato ai risultati che vi prendete da ogni query in particolare. Quindi qua andiamo a creare il cursor. E poi cosa avviene? Eseguire la query. Perché finora non abbiamo ancora eseguito niente. Abbiamo progettato la query, ci siamo collegati al database, abbiamo creato il cursor associato a questa connessione, ma non abbiamo ancora eseguito il query. Quindi per eseguirlo viene messo cursor.execute.sql. Se volete possiamo cambiare questo SQL, che mi sembra un po' confuso. Qua possiamo mettere qui. Facciamo query. Questo lo faccio così per chiarezza, no? Ovviamente quella lì è una variabile, potete mettere il nome che volete, ma metto query perché SQL, boh, non vuol dire niente. Quindi execute query. Dopo aver eseguito la query, ci prendiamo questo fetch all, cosa faceva? Si prendeva tutti i risultati, ok? E vengono assegnati a questa variabile result, poi viene stampata quella variabile lì. E poi una delle cose più importanti è quella di chiudere questo cursore e poi dopo aver chiuso questo cursor cosa si chiude? La connessione, no? Quindi ci sono sempre due cose, sì, da aprire o da creare e due cose da chiudere. Non dimenticate mai questa cosa, non si lascia aperta la connessione. Quindi qua ci manca connection.close Ok? Quindi qua ci passo uno, due, tre, quattro, eh, sono cinque passi che vengono sempre, vengono sempre fatti. Se se io per diciamo per sbaglio, per distrazione avessi lasciato questo return prima del cursor.close e del connection.close, cosa succede? non si chiude mai rimane sempre quella quella connessione lì aperta e non si chiude neanche il cursor ok? Quindi diciamo non dovrebbe capitare diciamo lo sappiamo tutti che il return viene è sempre l'ultima cosa che si fa all'interno di una funzione ma boh fate attenzione connessione ecco chiude ecco 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 ok Adesso cos'è che dovrebbe succedere qui? Che quando andremo ad aprire il sito, lui farà la query e stampa quello che si prende dal database, ok? Qua non è successo niente perché non avevamo ancora implementato niente sul front-end, ma sul back-end cos'è successo? Niente, ci stampa quello che si è preso dal database, che è giusto, no? È quello che abbiamo aggiunto manualmente su SQLite Explorer, ok? Domanda, da quello che vedete lì, qual è il tipo, qual è il data type di quei risultati che ci siamo portati dal database? Quello lì cos'è? Un array, una lista? E ogni elemento della lista cosa sarebbe? È un dizionario? No. Una tupla? E cos'è una tupla in Python? È un data type che, boh, si assomiglia a un dizionario, ma in questo caso è un data type che ha che prima come sintassi viene messo all'interno dei parentesi e poi, niente, ogni valore di quella, di una tupla viene separato da dalla virgola e ogni valore viene separato dalla virgola e basta quindi questo, quando voi vi prendete qualcosa dal database, ricordate sempre che quello che prendete non è un dizionario per sé, ma è una tupla, ok? fin qua ci sono domande? Cosa ci manca per far funzionare questo? ci manca che al posto di menu uguale menu venga messo, che ne so, tipo piatti uguale a piatti essendo questo, questo piatti qua non più questo array ma essendo quel piatti lì un dizionario che noi andremo a costruire qua da quello che ci siamo presi dal database, ok? che lo faremo adesso lo faremo volevo solo volevo solo farvi capire niente, cosa stiamo facendo e dove ci troviamo come passi all'interno di questo processo qua no, non ho mai capito bene come funziona diciamo a cosa serve questa funzione forse voi me lo sapete spiegare meglio questo first plate primo piatto a cosa serve? a? no, nel senso che viene messo first e poi viene messo un id quindi lui cosa fa? si prende solo che guardate che lo fa sempre sul primo elemento del menu no? quindi si prende sempre questo ah, dei primi ah, ok all'interno dei primi a seconda dà l'id fa vedere le... ok tipo per cercare sì, per cercare un un primo piatto questa funzione qua sì, questa funzione qua come verrà modificata adesso che facciamo le cose col database cosa sarebbe cosa sarebbe o cosa immaginate che dobbiamo fare adesso qui? sempre scusa? sì e in quel caso come immaginate che sarà la query? sì select sempre tutto perché vogliamo prenderci tutte le colonne in tutti i campi from piatti e com'è che facciamo a dire che ci interessa solo uno a seconda dall'id where id uguale un valore che passa per parametro l'utente ok? come sarà diverso diciamo oltre quella query lì come sarà diversa questa funzione da questa che abbiamo appena sviluppata niente non sarà per niente diversa perché ricordatevi che si fanno sempre gli stessi passi c'è sempre la stessa procedura e basta quindi questo è sempre una cosa molto standard per questo motivo dato che questo è una cosa molto standard la good practice o diciamo il modo più giusto più elegante e anche più strutturato di implementare di implementare questa questa interazione questa sì questa interazione col database non è come l'abbiamo fatto adesso perché guardate che adesso nello stesso file stiamo gestendo troppe cose no? stiamo gestendo i dati stiamo gestendo l'interazione col database stiamo gestendo anche questi render template quindi sono troppe cose diverse che tutte gestite all'interno dello stesso file cos'è che si fa diciamo la soluzione giusta quale sarebbe sarebbe creare un altro file python solitamente uno per ogni entità essendo un'entità quello che in java si chiama un oggetto alla fine una tabella un concetto che noi stiamo gestendo un concetto sì un'entità all'interno della nostra applicazione qual è l'entità qui piatti cosa vuol dire DAO vuol dire data access object no? quindi la stessa cosa questo DAO viene dal dal mondo java in cui ci sono degli oggetti in questo caso con python non ci sono degli oggetti ma comunque possiamo chiamare così il file per seguire lo stesso pattern e per avere la stessa struttura quindi si chiama piatti DAO trattino DAO e cos'è che andremo a fare all'interno di questo piatti DAO andremo ad aggiungere lì tutta la interazione col database non col database con la tabella piatti verrà gestita da questo file piatti DAO ok quindi ve lo ricordate che la prima cosa che abbiamo fatto dall'altra parte era import quindi questo non lo facciamo più qui ma lo facciamo e allora qua cosa facciamo una funzione no che sarà def get questa funzione qua ha bisogno di qualche parametro no perché va e si prende tutti i piatti che sono all'interno del dato e non dobbiamo specificare un valore un valore per quella qui di lì quindi ok quindi cos'è che abbiamo fatto qui abbiamo fatto una separazione tra il file che ci gestisce tutta la parte Flask e tra il file che ci gestisce tutta l'interazione col database e quindi questo DAO sarà alla fine quello che si interfaccia col database che come è l'intermediario tra l'applicazione Flask e tra il database come funziona che per ogni cosa che io andrò o per ogni interrogazione che andrò a fare dal database vengo qua e creo una funzione ok in questo caso cos'è che su cosa dobbiamo ragionare ogni volta che andiamo a creare una funzione su sul fatto o la domanda sarebbe c'è bisogno di qualche parametro o ce la facciamo a niente a fare quell'interrogazione senza specificare nessun parametro qua ce la facevamo perché ovviamente non ci prendevamo tutto dal database poi andremo a verlo più avanti se a noi ci interessa prenderci un piatto in base all'id o in base al nome allora lì viene messo come parametro la la nostra sì il valore che con cui verrà interrogato il database ok quindi a questo ci serve questo DAO e da questa parte cosa dobbiamo fare ovviamente dobbiamo importare quel file perché andremo ad usare quel file qua e qui cosa facciamo quindi sarà piatti DAO grazie a tutti e ci manca il ah si perché qua si appunto questo qua non fa niente e quindi che ovviamente non si mette qui ma viene messo per ultimo così no guardate che questo ovviamente è un programma molto semplice ma c'è una cosa molto potente molto bella da questo modo di strutturare il programma che sarebbe che qui io come applicazione Flask non mi interessa com'è che vai a prenderti i risultati o da dove vai a prenderti i dati no? io lo so che posso invocare questa funzione e in qualche modo mi arriveranno qua i piatti capito? questo file app.py guardate che non conosce la persistenza non sa dietro cosa c'è non sa se c'è un database MySQL se c'è un database SQLite non sa se c'è un una persistenza NoSQL non sa niente lui lo sa che questo file è in grado di andare a prendere chissà da dove i piatti e che glieli passa quindi questo è una cosa diciamo bella a livello di sviluppo e di software engineering perché in questo modo c'è una separazione dei concerns quindi ognuno si prende si prende la responsabilità di un concern diverso e quindi il concern di questo piatti dao qual è? gestire la comunicazione col database interfacciarsi col database con il o con i database perché non è detto che ci sia solo un database da cui prendere dati magari un'applicazione più grande va a prendere dati da diversi database e quindi in questo modo c'è la separazione tra il frontend e quello che gestisce il frontend e Flask e la persistenza ok? quindi il motivo per avere questo file è quello ottimo quindi se volete facciamo adesso la pausa ok e riprendiamo alle alle 5 e mezza e facciamo boh d'altra parte grazie a tutti